Questi giorni la Prefettura insieme alle Forze dell'Ordine è molto impegnata per cercare di arginare questo Covid, di fare dei controlli. Come ci si avvicina al Natale, ma soprattutto come ci si avvicina a quel Capodanno che è quel giorno dove tutti quanti sicuramente vogliono un po' divertirsi? Abbiamo sempre fatto controlli, come sapete, nei mesi scorsi. Abbiamo di recente fatto un piano, stiamo rafforzando ulteriormente i controlli. Ci adegueremo alle nuove disposizioni normative adottate ieri sera, però voglio anche sottolineare il grande senso di responsabilità dei cittadini e degli esercenti e dei commercianti sui quali contiamo. I controlli stanno andando avanti, come l'hai annunciato, sono tanti i trasgressori di queste norme? I controlli sono accurati, le violazioni non sono tantissime perché, ripeto, c'è stato già un lavoro particolarmente pressante nei mesi scorsi affinché le regole venissero rispettate, ma c'è anche un senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. I controlli sono accurati, come da alcune notizie che vi abbiamo detto, abbiamo riscontrato anche episodi che denotano il tentativo di sottrarsi, di elusione della normativa anti-Covid. Sicuramente questa è l'occasione anche per mandare gli auguri a tutti i cittadini della provincia. Gli auguri a tutti i cittadini, a tutti i pescaresi, di cuore.